Ciao e bentornato. In questo tutorial ti propongo alcuni esercizi, leggermente più complessi rispetto a quelli visti nel video precedente, sul calcolo del dominio di funzioni reali di variabile reale. Nelle funzioni proposte sono presenti vari termini, ognuno dei quali soggetto ad una o più condizioni di esistenza. Per raggiungere il nostro obiettivo ci troveremo così a dover risolvere sistemi di disequazioni. Iniziamo! La funzione di questo primo esempio è somma algebrica di due termini. Il primo termine è una funzione irrazionale fratta, mentre il secondo termine è una frazione in cui al numeratore abbiamo una funzione logaritmica e al denominatore una funzione irrazionale con indice di radice pari. Per quanto riguarda il primo termine, siccome al numeratore abbiamo una funzione irrazionale intera con indice di radice pari, la condizione da porre è radicando maggiore o uguale a zero, e dunque x più 4 maggiore o uguale a zero. Per quanto riguarda il denominatore, invece, siccome abbiamo a che fare ancora con una radice di indice pari, come abbiamo già visto nel video precedente, la condizione da porre è radicando strettamente maggiore di zero, poiché trattandosi di un denominatore il radicando non può essere posto uguale a zero, e dunque dobbiamo porre x quadrato meno 3x maggiore di zero in senso stretto. Per quanto riguarda invece la funzione logaritmica, sappiamo che la condizione da porre è argomento maggiore di zero, e dunque x più 2 maggiore di zero in senso stretto. E per concludere, la condizione sull'ultima funzione irrazionale, che si trova di nuovo al denominatore come nel caso precedente, è di nuovo radicando maggiore di zero, e cioè x maggiore di zero. Siccome poi tutte le condizioni devono essere verificate contemporaneamente, dobbiamo risolvere il sistema formato dalle quattro disequazioni così ottenute. Se per caso non ti ricordi come si risolve un sistema di disequazioni, ti riporto qui in basso il link ad alcuni miei video su questo argomento. Dopo aver risolto le singole disequazioni, otteniamo i seguenti risultati. La prima, la terza e la quarta disequazione sono di primo grado, e dunque è sufficiente portare il numero a destra cambiandolo di segno. Mentre la seconda è una disequazione di secondo grado spuria, che ha come soluzioni zero e tre, e siccome è presente il verso maggiore nella disequazione, è soddisfatta per i valori esterni alle due radici, e cioè per x minore di zero e x maggiore di tre. Dopo aver rappresentato graficamente i risultati, possiamo osservare che l'unico intervallo in cui sono presenti quattro linee, dove quattro è il numero delle disequazioni presenti nel nostro sistema, è questo, e dunque la soluzione del nostro sistema è x maggiore di tre. Il dominio della nostra funzione è dunque l'intervallo aperto illimitato superiormente più tre più infinito. Sul piano cartesiano, dobbiamo dunque tracciare la retta verticale di equazione x uguale a tre e cancellare la parte a sinistra di tale retta, poiché il grafico della funzione si trova alla destra rispetto a tale retta. Come avrai potuto notare, quando nell'espressione analitica di una funzione sono presenti più termini, bisogna verificare parecchie condizioni, e tutte le condizioni vanno poste a sistema. Se per caso trovi questi esercizi un po' troppo complessi, ti consiglio di guardare il video precedente, di cui ti riporto il link in descrizione. In tale video vengono trattati singolarmente tutti i casi più semplici, e vengono analizzate grosso modo tutte le situazioni che ci possono capitare quando risolviamo esercizi di questo tipo. Passiamo ora ad un secondo esempio. La funzione da analizzare è di nuovo somma algebrica di due termini. La prima funzione è una funzione irrazionale fratta, mentre la seconda è il rapporto fra una irrazionale intera e il prodotto fra due funzioni esponenziali, una a base fissa e una a base variabile. Per quanto riguarda il primo numeratore, si tratta di una funzione irrazionale intera con indice di radice dispari, e dunque il suo dominio è tutto r, e non dobbiamo porre alcuna condizione. Dobbiamo poi porre il denominatore diverso da zero, cioè x quadrato meno 36 diverso da zero, per poi passare all'analisi del secondo termine. Sul numeratore abbiamo la condizione radicando maggiore uguale a zero, poiché si tratta di una funzione irrazionale intera con indice di radice pari, mentre il denominatore è sempre diverso da zero, poiché la funzione esponenziale, di cui ti riporto il grafico qui a lato, è una funzione sempre positiva, e dunque non si annulla mai. L'unica condizione da porre è dunque, per questa funzione esponenziale a base variabile, base maggiore di zero, e dunque le condizioni da porre sul secondo termine sono x meno x quadrato maggiore uguale a zero, e x più 5 maggiore di zero in senso stretto. Come già detto in precedenza, le tre condizioni devono essere verificate contemporaneamente, e dobbiamo dunque risolvere il sistema formato dalle tre disequazioni appena scritte. Dopo aver svolto i calcoli, otteniamo i seguenti risultati, che andiamo a rappresentare graficamente sulla retta orientata. Siccome le condizioni presenti nel sistema sono tre, dobbiamo trovare un intervallo, oppure più intervalli, in cui sono presenti tre linee, e questo si verifica solamente per x compreso fra 0 e 1, estremi inclusi. Il campo di esistenza della nostra funzione è dunque l'intervallo chiuso e limitato di estremi 0, 1. Sul piano cartesiano, dunque, dobbiamo tracciare le due rette verticali passanti per 0 e per 1, e cancellare la parte del piano all'esterno dell'intervallo 0, 1, poiché, come si può dedurre dal campo di esistenza, la funzione presenta un unico ramo in questa zona del piano cartesiano. Passiamo ora ad un terzo esempio. La funzione da analizzare è somma algebrica di tre termini. Ora procederò in maniera più spedita. Per quanto riguarda la radice di indice pari al numeratore del primo termine, dobbiamo porre la condizione radicando maggiore o uguale a 0, e cioè 100-x² maggiore o uguale a 0. Per quanto riguarda il denominatore sempre dal primo termine, dobbiamo porre denominatore diverso da 0, e cioè logaritmo di x più 3 diverso da 0. Per quanto riguarda invece l'argomento del logaritmo, sappiamo che la condizione da porre è argomento maggiore di 0, e cioè x più 3 maggiore di 0. Osservando poi il secondo termine, possiamo notare che in esso è presente una funzione esponenziale a base fissa, e sappiamo benissimo che per queste funzioni il campo di esistenza è tutto r, tranne i valori che eventualmente creano problemi all'esponente. Nel nostro caso all'esponente è presente un denominatore, e dunque la condizione da porre è denominatore diverso da 0, cioè x-6 diverso da 0. Per quanto riguarda infine il terzo termine, ti faccio notare che, per quanto brutto sia da vedere, non presenta alcun problema, poiché in esso non è presente la variabile x, e dunque si tratta di una costante, cioè di un numero puro, che può essere dunque calcolato utilizzando una semplice calcolatrice tascabile. Per quanto riguarda la risoluzione della seconda condizione, dobbiamo riuscire ad avere un logaritmo anche qui a destra, e sappiamo benissimo che lo 0 può essere scritto come logaritmo di 1, poiché il logaritmo in qualsiasi base di 1 vale 0. Mettendo a confronto ora gli argomenti dei logaritmi, otteniamo x più 3 diverso da 1, e portando il 3 a destra cambiandolo di segno, otteniamo x diverso da meno 2. Dopo aver rappresentato graficamente i risultati, ci accorgiamo che ci sono tre intervalli in cui sono presenti quattro linee, dove 4 è il numero delle condizioni poste nel sistema. Il campo di esistenza è dunque dato dall'unione dei tre intervalli meno 3 meno 2 aperto e limitato, meno 2 più 6 aperto e limitato, e 6 10 aperto a sinistra e limitato. Sul piano cartesiano dobbiamo dunque tracciare quattro rette verticali in corrispondenza del meno 3, del meno 2, del più 6 e del più 10, e cancellare le due parti di piano a sinistra rispetto alla retta di equazione x uguale a meno 3, e a destra rispetto alla retta di equazione x uguale a più 10. Il grafico della funzione avrà dunque tre rami distinti in questa zona, in quest'altra e in quest'altra. Vediamo ora un ultimo esempio. Dobbiamo determinare il campo di esistenza di una funzione goniometrica nell'intervallo 0,2π. La funzione goniometrica è somma algebrica di tre termini. Nel primo termine sono presenti le funzioni coseno e seno, che sono definite su tutto R. L'unico problema dunque si ha qui al denominatore. Dobbiamo porre denominatore diverso da 0. Mentre, per quanto già visto nel video precedente, le condizioni da porre sulla tangente e sulla cotangente sono rispettivamente angolo diverso da π mezzi più un multiplo intero di π per la tangente e angolo oppure argomento diverso da un multiplo intero di π per la cotangente. Scriviamo dunque le tre condizioni e mettiamole a sistema, poiché devono essere soddisfatte contemporaneamente. Per risolvere la prima condizione, dobbiamo ricordare che il seno di un angolo vale 0 quando l'angolo, cioè l'argomento del seno, è uguale a un multiplo intero di π. Risolviamo ora portando il π a destra cambiandolo di segno, cambiamo poi tutti i segni e dividiamo entrambi i termini per 3, ottenendo così x diverso da π terzi meno k π terzi. Sostituendo infine a k valori interi in modo che l'angolo x sia compreso fra 0 e 2π, otteniamo tutti i valori che ti ho riportato qui a destra. Il campo di esistenza è dunque l'intervallo aperto 0 e 2π, poiché gli estremi non sono accettabili, con l'esclusione di altri sette valori ottenuti risolvendo le condizioni presenti nel sistema. Rappresentiamo dunque i risultati ottenuti sul piano cartesiano e notiamo così che la nostra funzione presenta nell'intervallo 0 e 2π otto rami distinti. Per mostrarteli ho rappresentato la funzione utilizzando GeoGebra, ottenendo il seguente grafico. Con questo abbiamo concluso. Io ti ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, ti invito a lasciare un like se ti è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non ti è chiaro e, se non l'hai già fatto, a considerare l'opportunità di iscriverti al canale in modo da rimanere sempre aggiornato sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial parleremo di funzioni simmetriche, daremo la definizione di funzione pari e di funzione dispari e svolgeremo alcuni esercizi sulle simmetrie. Vi aspetto. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.